L'Asra Salerno, Dipartimento di Prevenzione, ha comunicato di aver riscontrato nelle ultime 24 ore 14 nuovi casi di positività al Covid-19, tra cui un cittadino non residente ad Agropoli. Nel contempo si registra anche una guarigione. Il totale dei positivi attuale è quindi di 134 persone. Sono stati esaminati complessivamente 221 tamponi, il tasso di positività è del 6,79%. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asra ha reso noto che sono terminati gli esami di tutti i tamponi sulla popolazione scolastica della scuola Caffarelli, con un solo nuovo caso, contatto di un familiare già positivo. L'istituto resterà comunque chiuso in via precauzionale fino al 16 dicembre. Si è registrato un nuovo caso di positività tra gli scolari presso la scuola primaria di Via Verga. Si tratta di un bambino contatto di un genitore positivo al Covid. L'istituto è stato già sanificato. A partire da oggi e fino al prossimo 1 gennaio sono sospesi gli spettacoli all'aperto inseriti nel programma degli eventi natalizi. Presso la Casa di Babbo Natale, invece, gli accessi saranno solo su prenotazione. Invitiamo a rispettare sempre le normative anti-Covid-19, ad indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione, fanno sapere dall'ente comunale.